E' stato il Joker della saga di Batman più cupo e maledetto, un'interpretazione che gli regalò l'applauso nei maggiori festival, l'assegnazione postuma del BAFTA, del Golden Globe e l'omaggio anche degli Academy con l'Oscar. Dieci anni fa, il 22 gennaio 2008, veniva trovato morto nella sua casa Heath Ledger, tra le stelle immortali del firmamento di Hollywood. L'autopsia stabilì che era stata un'intossicazione accidentale di farmaci, mettendo a tacere le mille speculazioni montate sui media. L'uscita nelle sale, a pochi mesi dalla morte del Cavaliere Oscuro, contribuì a tenere vivo il ricordo dell'attore venuto dall'Australia. Con lo scorrere del tempo il mito e l'attore si sono sovrapposti, Heath Ledger in neanche dieci anni di carriera era riuscito a passare dalle prime prove davanti alla cinepresa al successo planetario, dando vito a personaggi intensi che ne hanno esaltato l'eclettismo interpretativo. Oltre alla maschera di Joker, Ledger si è impresso nella memoria del pubblico per il ruolo di Ennis Del Mar, protagonista dei segreti di Brokeback Mountain, accanto a Jake Ginehall. La tormentata storia d'amore tra i due cowboy sullo sfondo dello sterminato Wyoming farà incetta di premi, compreso il Leone d'oro a Venezia 2005. Il documentario I am Had Ledger, presentato lo scorso anno al Tribeca Film Festival, sarà in prima visione su Sky Art martedì 23 a dieci anni dalla sua morte. Oh, you will.